Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, prima di tutto voglio dirmi grazie a tutti per il supporto che ci state dando perché grazie a voi il canale cresce e poi siamo una bella community mi sono calmato del video commento del post partita di Juve e Parma calmato per modo di dire perché è stato uno schifo totale è stato uno scempio, non è possibile che torna a dire la Juve in casa non riesca a vincere contro Cagliari e Parma se tu non riesci a vincere contro Cagliari e Parma è giusto che non lotti per lo scudetto è giusto che ha i primi di novembre 67 punti da Napoli, è giusto così, semplicemente è giusto però non parliamo di Juve ma parliamo delle belle vittorie di Inter, Venezia e Atalanta ma voi nel frattempo iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perdete niente continuate a supportarci come lo state facendo ora perché ci supportate, perché più ci supportate più portiamo contenuti più portiamo nuovi ospiti, cose che ancora non abbiamo portate però se voi ci aiutate a crescere possiamo portare degli ospiti scusate se oggi sono un po' così però sono ancora nervoso per lo scempio che ho visto poco tempo, poco fa e allora la vittoria dell'Inter è una vittoria meritata è giusto poi dire che fino al 31esimo l'Inter l'Empri se la stava giocando alla pare, aveva una occasione una, una occasione un'altra poi il giocatore dell'Empri fa una follia totale che è giusta l'espulsione senza che raccontiamo una notte lì, l'espulsione c'è l'espulsione c'è è stato coglione il difensore o il centrocampista dell'Empri perché lì è stato anche un errore dell'albitro perché è un errore dell'albitro? perché là tu lo devi vedere subito, non devi aspettare il VAR l'era un rosso diretto e c'è stato il rosso diretto e a casa e poi grazie a Frattesi e a Lautaro Martinez l'Inter con un uomo in più si porta giustamente la partita a casa ed è oggi, lo possiamo dire tranquillamente ai primi di novembre che la vera e unica anti-Napole, l'Inter e le altre finora hanno fallito tutte chi in un modo e chi nell'altro, hanno fallito tutti e tutto poi il Venezia vince di rimonte però qui possiamo dire tranquillamente che l'Udinese si è stucidata perché l'Udinese vinceva grazie ai gol di Lovic e Bravo semplicemente doveva portare la vittoria a casa invece in pieno recupero del primo tempo gli regala per una follia dei giocatori dell'Udinese un calcio di gore al Venezia va poi a palo e fa il gol del 2 a 1 e quel gol del 2 a 1 riapre completamente la partita perché la riapre completamente la partita? perché Tra Re fa una follia assoluta al 53esimo che si fa cacciare e grazie a quell'espulsione prima Nicolosi Caviglia porta il Venezia sul 2 a 2 poi nel finale altra follia di un difensore dell'Udinese fa fallo, va poi a palo sul calcio di rigore e fa 2 su 2 e porta 3 punti fondamentali al Venezia nel frattempo l'Udinese crolla completamente quando al 40esimo aveva chiuso completamente una partita poteva fare un secondo tempo tranquillo invece grazie a quell'errore che regala il calcio di rigore al Venezia che riapre tutto una vittoria strameritata della squadra di Di Francesco forse c'è qualche segnale di ripresa dobbiamo semplicemente dire complimenti al Venezia per questa vittoria strameritata poi vedremo se avanti riuscirà a portare ancora avanti il suo obiettivo però oggi è così Venezia 3, Udinese 2 l'Udinese si uccidia calcisticamente ma per i suoi errori per le sue letture sbagliate dei suoi giocatori nel turno finale l'Atalanta vince contro un Monza 2 a 0 e la risolve Samaric il giocatore non mi ricordo se è serbo o croato comunque chi è lui da dove viene è un ottimo giocatore l'Atalanta prende i giocatori e le riesce a migliorare tutti da chi prende prende lo migliora che è pinco pallo se è pallo pinco lo migliora tutti quanti Samaric l'ha migliorato De Keteran l'ha migliorato Scamacca l'ha migliorato io sono convinto che farà anche il miracolo con Zaniolo vedrete che con Zaniolo farà anche il miracolo perché quando Gasperini vede che la squadra è in difficoltà non è che mette il difensore mette altri attaccanti perché mette Zafacosta mette Quadrato mette Zaniolo per andare a vincere questa partita la vince grazie all'assist di Retegui per Samaric che fa il gol dell'1-0 e poi la chiude un altro subentrato Zafacosta grazie all'assist di Samaric possiamo dire tranquillamente questi tre punti dell'Atalanta vengono portati a casa dalla panchina perché ha saputo fare i cambi quando uno sa fare i cambi quando uno sa quale giocatore mettere alla fine il risultato viene sempre da te e dobbiamo dire complimenti a Gasperini perché è riuscito a vincere una partita davvero davvero dura e domenica ci sarà Napoli-Atalanta sarà una partita spettacolare a mezzogiorno altro orario folle perché certe sfide non si fanno a mezzogiorno però sappiamo che dovrò vendere le partite in mondo visione Atalanta-Napoli sarà una partita spettacolare vedremo se Gasperini riuscirà a fermare a oggi a oggi possiamo dire tranquillamente che la corazzata di Conte è imbattibile non la riesce a fermare nessuno il gioco bello Conte fino a un certo punto l'importante è portare i tre punti a casa e Conte ancora una volta col Napoli è riuscito a portarlo invece altri non ci sono riusciti l'Inter è ufficialmente l'unica anti-Napoli l'Atalanta si prende il terzo posto il Venezia per la prima volta si allontana dai tre posti per noi retrocedere comunque questa serie è bella fra chi vince chi perde alla fine ha ragione solo uno quello che ha sempre ragione è uno è di Antonio Conte voi nel frattempo iscrivetevi al canale attivate la campanella e ci vediamo alla prossima ciao